Musica Musica Cari amici ben ritrovati a Sfida Vincente e Deilis, questa sera qui con noi Elio Bottero, amministratore di Bottero Schi e presidente di Rete e di Impresa. Buonasera, ci racconta brevemente che cos'è Bottero Schi? Bottero Schi è un complesso di negozi di articoli sportivi specializzati soprattutto nello sci ma anche negli altri sport e anche nel sport per tempo libero che vende ed affitta materiale sportivo sia sul territorio della provincia di Cuneo che online. Quali sono i principali prodotti che commercializzate? Principalmente lo sci, poi mountain bike, abbigliamento, calzature per il tempo libero. Poi avete creato anche una linea di abbigliamento e una linea di sci proprio a vostro marchio, no? Sì, abbiamo voluto coniugare lo styling con la qualità massima per la montagna e quindi abbiamo fatto una linea di abbigliamento da sci e da montagna, da sci alpinismo e da tempo libero. Voi vendete anche online? Certamente, siamo stati i pionieri di questo nel nostro settore e questo ci ha dato un vantaggio rispetto agli altri per cui in questo momento siamo tra i primi in Europa. Quali sono le prospettive per il futuro? Il futuro è molto difficile, però se uno sa adattarsi ai tempi e sa vedere avanti, ce la può fare. Bene, ringraziamo molto il dottor Elio Bottero della Botteroschi e presidente di Reddipresa. Grazie. Grazie. Buona sera a tutti. Grazie.